idea originale per la tua festa rendila indimenticabile con il festival della melodia emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di miss adriatico storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale o addirittura con il festival dell'umorismo esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle insomma spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico affidati dunque alla trentennale esperienza dell'agenzia promozione spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11 il divertimento ti aspetta seconda settimana della prevenzione dell'udito progetto davvero molto interessante lungimirante curato dalla maico e dal polo irene noi siamo venuti qui in piazza barbacani a vasto per vedere com'è andata con noi il dottor guglielmo gaggini del reparto di otorino la ringogliatria dell'ospedale di vasto ecco parliamo di questa bella iniziativa in piazza barbacani il primo anno che noi partecipiamo e collaboriamo con la maico il nostro compito è quello di aiutare i tecnici a valutare la funzionalità uditiva e dare qualche indicazione anche sulle eventuali terapie e la prevenzione naturalmente se riscontriamo qualche sospetto di patologia i soggetti verranno invitati nei prossimi giorni nel nostro unità operativa per una diagnosi più approfondita fino adesso che cosa avete riscontrato ci sono stati dei problemi no fino adesso è stato tutto regolare per cui non perché è importante una manifestazione del genere perché è importante la prevenzione è importante perché ci permette quindi una stessa giornata di esaminare un certo numero di pazienti e quindi individuare eventualmente delle anche delle patologie più serie davanti al posto medico avanzato con una bella signora perché qui dunque il fatto di migliorare la qualità della vita sicuramente e quello è l'aspettativa di ognuno di noi ma c'è un fatto che noi tante cose le abbiamo trascurato come nel mio caso io non ci sento da un orecchio e quindi ringrazio la maico insomma il polo irene che insieme organizzano questa bella manifestazione a vasto sicuramente è bellissima ed è una cosa che ci invita comunque ad essere più responsabili verso di noi di non trascurare anche una otite che si è potuto avere che poi è degenerata ecco quindi l'udito come la vista sono cose importantissime sicuramente sì con lo torino luca d'agostino di vasto parliamo di questa bella giornata promossa dalla maico e dal polo irene per la prevenzione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della prevenzione a livello uditivo sicuramente diciamo che l'ipoacusia quindi la problematica diciamo del quindi dei problemi della sordità soprattutto nelle persone anziane rappresenta sicuramente un problema sociale quindi la prevenzione in particolare rappresenta sicuramente un risvolto importante per quello che può riguardare poi diciamo il risvolto nella nell'ambito della socializzazione di queste persone che chiaramente con questo tipo di handicap diciamo tendono a essere molto più isolate diciamo nella nella società per cui ripeto la prevenzione sicuramente ha un ruolo importante e grazie a questi eventi che chiaramente possono essere come dire più divulgate queste situazioni per cui noi siamo in qualche modo vicina a queste situazioni proprio perché vediamo nella vita di tutti i giorni i risvolti purtroppo anche negativi di questo problema per cui molte persone anziane molte persone anche giovani certe volte però è chiaro che in questo senso noi lo rivolgiamo più alla popolazione diciamo così anziana trovano difficoltà nel loro esprimersi nella loro vita quotidiana quindi ripeto la prevenzione per noi rappresenta sicuramente un evento importante quindi promuoverla noi siamo sempre vicini a chi lo fa. Nicola Candeloro responsabile marketing della Maico di Pescara parliamo di questa seconda settimana della prevenzione qui in piazza Barbacani a Vasto ancora tanta affluenza per un'iniziativa sentita in modo particolare. Sentita certamente è il caso di dirlo è un evento alla quinta edizione non ascoltami in occasione della festa dei nonni siamo davvero fieri di aver organizzato questa manifestazione perché effettivamente se ne sentiva la necessità. La prevenzione in piazza è sempre più percepita dalla popolazione come una esigenza e non solo per quanto riguarda l'udito. Non ascoltami scendo in piazza con gli ospedali con la benedizione degli ospedali con i reparti di Torino la ringoiatria qui a Vasto quindi con il primario il dottor Buzzelli e tutto il suo staff medico e oggi siamo presenti anche a Termoli e diciamo motivo d'orgoglio del 2014 è che non ascoltami è diventato un evento nazionale quindi ci stiamo anche in questa giornata sulle piazze di Matera, Bari e Albano Laziale quindi davvero interessante. Un problema spesso preso sotto gamba quello dell'udito e che voi cercate di porre al centro dell'attenzione perché è un problema di scottante attualità. Assolutamente sì quello che riscontriamo nelle persone che vengono a effettuare un controllo gratuito lo ricordiamo dell'udito e che troppo spesso le persone non sanno di avere un problema di ipocusia in gergo tecnico di udito. Un progetto che coincide con la festa dei nonni quindi sono stati in tanti i nonni a sottoporsi al controllo dell'udito proprio per migliorare la qualità della vita. La qualità della vita passa certo attraverso anche un ottimo udito. Noi leghiamo anche la festa dei nonni alla presenza dei bambini non è un caso che il nostro logo sia quella di una nipotina e infatti cerchiamo di mettere in campo delle attività che coinvolgano nonni e nipoti. Grandi sforzi da parte della MAICO e di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento itinerante in un periodo del tutto particolare perché ricorrono i 50 anni della nascita della MAICO. Sì, 2014 ricorrono i 50 anni della MAICO come istituto acustico centro controllo sordità concessionario di Abruzzo, Molise e Puglia ed effettivamente per noi è un motivo di orgoglio questa storia che dura da tanti anni e che speriamo abbia un grande futuro. Un ringraziamento particolare al Polo Irene che da quest'anno è partner ufficiale di questa manifestazione Polo dell'economia civile. Quindi insieme condividiamo la mission di portare la salute e il benessere all'interno sulle piazze e nella popolazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.